Una delegazione dei rappresentanti delle agenzie di viaggio e dei tour operator della regione Campania è stata ricevuta ieri mattina dagli assessori alla semplificazione amministrativa e al turismo Felice Casucci e al lavoro e attività produttive Antonio Marchiello. L'intero comparto del settore turistico è duramente colpito dalle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria Covid-19 e nonostante la presenza di fondi di ristoro dedicati al settore sia da parte della regione che del governo nazionale vive una situazione emergenziale legata alla gestione dell'indotto e del personale. In questi giorni l'assessore Casucci aveva già anticipato al coordinatore della Commissione Nazionale Turismo Daniele Damario un patto di solidarietà nazionale per presentare il turismo italiano e immaginare insieme una imminente ripartenza. In questa direzione verrà chiesto di mettere all'ordine del giorno della conferenza Stato-Regioni il tema delle agenzie di viaggio e dei tour operator sollecitando soluzioni immediate e condivise. Bisogna mettere in campo una rete di sostegno per tutti gli operatori che prevede forme di incentivazione sia economiche sia di altra natura tipo diversificazione delle attività, progetto formativo del personale del comparto, revisione del rapporto con OTA da sviluppare nella nuova programmazione 2021-2023. Il tavolo di ascolto già realizzato dall'assessorato al turismo della regione Campania ha proprio l'obiettivo di organizzare momenti strutturati e periodici per affrontare insieme l'emergenza e avviare un lavoro coordinato e continuativo con attori decisivi per la conoscenza del territorio. Si confida anche che i contributi in conto capitale previsti dal decreto dirigenziale numero 386 dell'11 settembre scorso riguardanti l'intermediazione turistica su cui la regione Campania ha di recente impegnato 2 milioni di euro possano portare benefici rilevanti e immediati a tutto il settore.